Dopo i violenti scontri tra polizie e manifestanti, il presidente del Kenya, William Ruto, usa toni distensivi per invitare al dialogo i giovani della generazione Z che hanno animato le proteste antigovernative contro la legge finanziaria culminate nell'assalto al Parlamento di Nairobi martedì scorso. Non ho le mani sporche di sangue, ha detto il capo di Stato, in una diretta televisiva per un emittente locale, negando gli oltre 30 morti che gli attribuiscono le organizzazioni internazionali per i diritti umani. Il presidente si è detto disposto ad ascoltare i manifestanti sui loro canali social. Ruto ha promesso indagini su quanto è successo, precisando che sarebbero 19 le vittime degli scontri ed ha garantito di non aver dato direttive di attaccare i dimostranti. In un messaggio della conferenza episcopale locale, che è stato letto ieri in tutte le parrocchie durante le messe, i vescovi si dicono rammaricati per l'accaduto e condannano l'azione brutale ed ingiustificabile delle forze di polizia.